Stabilimenti balneari aperti fino alla fine del mese di settembre a Torre del Greco. Una scelta condivisa da molti titolari dei Lidi sul litorale, che nasce per far fronte alla crisi e ad una stagione balneare iniziata in ritardo per l'emergenza Covid e sicuramente non facile. Francesco Lavela, siamo qui in Litorania, il mese di agosto è finito, ma gli stabilimenti quest'anno resteranno aperti per tutto il mese di settembre? Sì, rimarremo aperti quasi tutte le strutture balneari del lungomare di Torre del Greco, come la mia, Lavela Beach Club, tutto il mese di settembre. Bene o male abbiamo fatto delle promozioni per invitare le persone a continuare a scendere a mare, visto che penso che le scuole inizieranno dopo le elezioni della tornata elettorale, quindi abbiamo fatto una promozione, noi come Lavela Beach a qualcun altro anche avrà fatto più o meno la stessa promozione, 10 euro ogni nucleo familiare, significa due adulti con due bambini che non superano i 12 anni. In più, visto che noi abbiamo anche il supporto di avere una struttura con ristorante e pizzeria, abbiamo fatto una promozione con 20 euro, sia sabato che domenica e tutta la settimana, mangia tutta la famiglia, significa due adulti, due bambini, due primi, due secondi e due condoni. Più di questo, come bassa stagione, non si potrebbe fare. Questa estate 2020 ai tempi del Covid, come è andata? Allora, se vogliamo pensare al Covid, dobbiamo ringraziare al Signore che c'è stata l'affluenza delle persone, abbiamo lavorato. Se poi pensiamo all'anno scorso, meglio che non ci pensiamo. Quindi inevitabilmente la crisi si è fatta sentire? Sì, sicuramente, anche perché quando l'affluenza è maggiore, il fine settimana, visto che il numero degli ombrelloni era ridotto, causa le distanze, quindi proprio quando si doveva lavorare di più, potevamo ospitare meno persone. Comunque, io sono positivo, sono sereno perché ci aspettavamo molto più restrizioni. Le restrizioni ci sono state, però ci hanno dato la possibilità di lavorare e andare avanti. Grazie. Grazie. Grazie.